Sta nascendo su tutta la provincia di Massa Carrara una rete di sinergie per promuovere in modo capillare i libri e l'importanza della lettura ad altavoce fin da piccoli. Coinvolgiamo le biblioteche provinciali con la creazione di 10 nuovi punti lettura 0-6 anni. In arrivo più di 3.000 nuovi libri per bambini e attività per tutta la famiglia. Offriamo opportunità di lettura e di ascolto per tutti i bambini, inbook, audiolibri, libri tradotti in lingua dei segni. Realizziamo corsi di formazione per ostetriche e doniamo pacchetti di benvenuto per tutti i nuovi nati. Incontriamo le scuole, 200 ore di formazione per 270 insegnanti sul tema della lettura ad altavoce. 160 ore di laboratori di lettura espressiva per più di 300 ragazzi. Nutrire gli inizi, buone pratiche per una sana cultura dell'infanzia.